Angela Tosca, oggi com'è bella Aiutateci A Castelvegiano capivo questo supermercato Brico Markets Bello Cioè È una cosa di fai da te Diciamo mobili, cose di casa Oh, è dietro proprio Dove c'è il McDonald's Dietro l'Oasi, diciamo No? È un aperto adesso Bellissimo Castelvegiano Siamo in numero uno Grazie